2 su 2 per l'unico messa di Casciotti che batte al Bartolomeo Ginnetti l'atletico Piantigna per 0 a 1 per effetto del gol decisivo al 25esimo della prima frazione di gioco siglato da Dossantos 3 i gol fatti dalla formazione ospite, 0 quelli subiti, 6 i punti, prima occasione da gol al minuto numero 8 della prima frazione di gioco lungo batti e ribatti, nere di rigore poi spera che termina in out al minuto numero 19, arriva la seconda occasione con la rimessa laterale battuta da Surfer il pallone, arriva nei piedi di Delgado poi spera che arriva al numero 31 Bineco che lancia il pallone sulla zona di destra con conclusione che poi termina alta sopra traversa da parte dello stesso numero 31 ancora Unipo Mezzia, il vantaggio arriva come detto al 25esimo, Dossantos raccoglie il pallone al limite dell'area di rigore, lascia andare il sinistro a giro sotto l'incrocio il portiere di padrone di casa, Stefani non può nulla e l'Unipo Mezzia passa così in vantaggio l'atletico Montinia che si fa vedere nella prima frazione con questo calcio di punizione battuto da Bordin, Marciano esce con i tempi giusti e respinge la minaccia ultima chance della prima frazione di gioco sui piedi di Surfer per Unipo Mezzia, Dossantos viene anticipato in corner poi le immagini passano alla ripresa, Unipo Mezzia che si fa vedere al minuto numero 13 della seconda frazione di gioco, calcio di punizione che però termina in out, ancora Unipo Mezzia pericoloso, ancora con un calcio di punizione, questa volta tra le braccia di Stefanini e Atletico Montinia che trova la vera occasione al minuto numero 23 della seconda frazione di gioco, Proietti prova il destro, Marciano a terra ancora Atletico Montinia pericoloso, questa volta con Gesmundo che al 33esimo interviene in questo modo con doppia ammunizione da parte del direttore di gara, il numero 11 del padrone di casa termina anzi tempo la sfida lasciando l'atletico Montinia in 10, l'ultima chance del match arriva allora sui piedi sempre di Dossantos che va via sulla sinistra prova il Mancino, palla che termina a fili di palo, poi dopo 5 di recupero il match termina sostanzialmente qui con il dribbio genvistio da parte del direttore di gara grazie 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 grazie